Ciao a tutti da Maurizio, benvenuti su Recensito. Una nostra vecchia conoscenza, ovvero BC Batteries, ci ha contattato per poter parlare delle sue batterie leggerissime a litio. Ho accettato però a patto di una cosa, ovvero di poter parlare e di sfruttare questo Recensito per fare un po' di chiarezza e per poter fare lo stato dell'arte delle batterie. Attualmente in commercio è fare un po' di comunicazione, un po' di informazione perché c'è grande ignoranza, tra virgolette, sulle batterie ma soprattutto tanta confusione. Allora, cosa abbiamo in commercio? Abbiamo piombo, acido, gel o AGM, poi abbiamo le litio, cobalto, lico o lion e poi infine le lifepo 4, ovvero litio, ferro e fosfato, BC, litium. La prima domanda che sorge spontanea quando ci troviamo davanti a questo tipo di batterie è se confrontiamo la capacità con la corrente di spunto, ovvero confrontando le lifepo 4 con le piombo acido gel vediamo che la capacità delle prime rispetto alle seconde è addirittura di un terzo. Allora la domanda è come può una batteria con una capacità ampere ora inferiore di un terzo avere poi una corrente di spunto che è addirittura superiore del 50% presto detto perché corrente spunto CA e la CI mi arriva dalla corrente di scarica massima e questo è un passaggio importante nodale perché corrente scarica massima per le batterie piombo acido gel o AGM è 15 mentre pensate per l'ifepo 4 arriva addirittura a 50. Le litio cobalto in questo caso non le consideriamo perché è un valore non dichiarato quindi 50 contro 15 questo cosa significa che per avere una corrente di spunto CA pari a 300 ampere con una batteria piombo acido gel AGM dovrò avere sostanzialmente una batteria da circa 20 ampere ora mentre per una batteria lifepo 4 mi basterà avere una batteria da circa 4 ampere ora e quindi la differenza sta proprio lì e a questi valori arriviamo anche considerando la densità di energia perché densità di energia nelle batterie piombo acido è circa 2 quando il dirittura l'elifepo 4 arriva a 10 il massimo si ottiene state ben attenti con l'elitio cobalto o l'ion olico che arriva addirittura io ho messo 10 più più perché è ancora superiore rispetto al 10 però però c'è da guardare un altro aspetto molto importante l'aspetto della sicurezza in questo caso vincono ancora l'elifepo 4 perché abbiamo sicurezza 7 per le piombo acido 5 quindi questo 10 più più alla fine viene inficiato da questo valore molto basso della sicurezza mentre l'elifepo 4 bicilitium arriva addirittura a 10 questo cosa significa che ci potrebbe essere un pericolo di incendio in determinate condizioni di utilizzo quindi sicuramente meglio andare sulle l'elifepo 4 così siamo tranquilli altro aspetto molto importante ovviamente sono quando parliamo di batteria sono i cicli di vita capiamo quanto è vincente la tecnologia bici batteries perché arriviamo addirittura più di 2000 cicli di carica contro i 500 delle litio cobalto e addirittura contro i 400 delle tradizionali batterie piombo acido altro aspetto non meno secondario perché del resto di ecologia vogliamo e dobbiamo anche parlare e quindi ecocompatibile sicuramente le piombo acido non lo sono non lo sono le litio cobalto invece lo sono l'elifepo 4 quindi sguardo anche all'impatto ambientale riassumendo velocemente quali sono le caratteristiche principali e importanti per quanto riguarda una batteria sicuramente le nostre bici batteries sono più sicure hanno più spunto e permettono più cicli di carica e poi altro aspetto importante perché stiamo parlando di una moto la leggerezza e a proposito di leggerezza guardate vi faccio subito un esempio ovvero abbiamo una batteria senza marca tradizionale piombo acido adesso accendiamo la nostra bella bilancina vi faccio vedere che differenza di peso guardate questa è davvero leggerissima è una cosa imbarazzante sembra quasi che sia finta una volta che la si prende in mano partiamo con la batteria tradizionale ci fermiamo a 2972 grammi passiamo alla bici batteries guardate impressionante 848 leggerissima e tra l'altro c'è anche un altro aspetto importante vedete abbiamo il test ovvero premendo questo tasto riusciamo a vedere quanto è carica la nostra batteria e poi affronteremo anche questo capitolo ovvero la ricarica per un aspetto molto importante per quali moto sono disponibili le bici batteri sostanzialmente per tutte le moto dal 2000 in poi però anche pre 2000 quindi per questo vi consigliamo di andare a consultare il sito oppure di scrivere all'azienda che vi potrà dire se queste batterie possono anche andare sulla vostra moto ricarica noi consigliamo sempre di mantenere tutte le batterie sotto tensione col mantenitore di carica tutto l'anno che così siamo tranquilli le batterie invece esposte in negozio hanno una durata di un anno e a proposito di cose interessanti voglio sfruttare questo recensito bici batteries fino all'ultimo ovvero mi sono appuntato un po' di falsi miti perché in tanti ci scrivete ci sono molte domande tanti appassionati mi fermano e magari mi fanno qualche domanda sulle batterie anche a lei come quest'anno e allora voglio sfatare alcuni miti ovvero mantenitore è lo stesso per questo tipo di batterie e anche per le batterie per esempio piombo acido? no assolutamente perché? perché è diverso il livello di tensione ovvero le piombo arrivano circa a 13,5 mentre la litio arriva a 13,2 13,3 quindi sostanzialmente un mantenitore di carica tradizionale alzerebbe troppo il livello della tensione poi mantenitore di carica con desolfatazione? no perché rovina le batterie a litio durata in stock l'abbiamo detto un anno le batterie a litio si scaricano di meno? no si scaricano di più perché c'è meno energia al loro interno sono più inquinanti? no l'abbiamo detto perché non ci sono né gli acidi né i metalli pesanti e poi a temperature basse sono meglio le batterie a litio e in questo invece vincono le batterie piombo acido però c'è un piccolo trucco ovvero se montate la batteria a litio potete tenere prima di partire i fari accesi per 1, 2, 3 minuti in modo che anche la batteria si scalda e vi permette di partire in tutta tranquillità io praticamente ho finito alcune batterie le potete vedere qua davanti a me tra l'altro abbiamo anche esposto i mantenitori di carica caricabatterie che abbiamo già mostrato in un precedente recensito quindi se non li avete ancora visti andate a vedere il recensito di qualche tempo fa e poi il mio consiglio è come sempre quello di seguire i nostri canali social il nostro canale di auto e di moto su youtube e i nostri social l'abbiamo detto quindi facebook e instagram e poi mi raccomando vi mando al sito bclithiumbatteries.com che vedete anche qui sotto vicino al tavolo io ho finito vi aspetto alla prossima video recensione ciao a tutti da Maurizio ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti